San Giuliano di Puglia, 15 anni dopo il terremoto, nel giorno della memoria ricordate le vittime della scuola Jovine, in paese anche il capo della protezione civile e Bertolaso, su Telemolisi alle 15 lo speciale della diretta di quei giorni. Antonio Di Pietro ci ripensa, sbanda l'ulivo 2.0 e il dietro front dell'ex senatore rimescola le carte nel centro-sinistra e mette in difficoltà il nuovo movimento, dietro la scelta di tornare con frattura a un accordo elettorale tra il figlio e facciolla. L'occhio delle telecamere in 11 comuni, il progetto sicurezza illustrato a Palazzo Vitale prevede l'installazione di 503 videocamere, controlli nelle strade e nei luoghi pubblici, nei centri con più di 5.000 abitanti. Morte e credenze popolari nei costumi tradizionali, al Musec di Isernia un incontro sui modi di vestire in occasioni particolari, in un'epoca lontana e nel giorno di Halloween i bambini si preparano a indossare le maschere horror. Domani in campo il turno infrasettimanale, Campobasso e Agnone giocano entrambe in casa, a Selvapiana arriva l'Aquila, ospite del Civitelle, il San Marino, le molisane chiamate a riscattare le sconfitte di domenica. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di San Giuliano di Puglia, 15 anni dopo il terremoto nel giorno della memoria. Ricordate le vittime della scuola Jovine, in paese anche il capo della protezione civile, sentiamo Fabrizio Occhionero. Giornata della memoria a San Giuliano di Puglia, 15 anni fa il terremoto, il crollo della scuola Jovine in cui morirono 27 bambini e una maestra, commemorazione nel paese più colpito dal sisma, lunghi anni un ricordo sempre vivo tra chi quel giorno c'era e chi nel tempo ha condiviso le immagini e il racconto del 31 ottobre del 2002. Autorità civili e militari, associazioni di volontariato e soccorritori sono tornati nei luoghi della tragedia, in segno di vicinanza ma anche con tanta consapevolezza. Un saluto ai miei concittadini, un ricordo affettuoso, un abbraccio a tutti, soprattutto alle mamme e ai papà dei bambini e ai parenti anche dell'insegnante. Oggi quei bambini sarebbero dei ragazzi di 21 anni e questo ovviamente lo sappiamo, lo sentiamo tutti e continueremo a crescere con loro fino a quando avremo la forza per ricordarci di questa grande tragedia che se fossimo stati forse in un paese diverso saremmo anche riusciti ad evitare. Il programma della giornata della memoria ha previsto il ritrovo al cimitero dove alle 11.32 30 rintocchi di campana hanno scandito i nomi delle vittime della scuola elementare, delle due donne morte in paese. La campana ha quindi suonato a distesa per ricordare che la vita continua nel segno del ricordo. Dopo un momento di preghiera il corteo ha raggiunto il parco della memoria, costruito sulle macerie dell'edificio crollato. Corone di fiori sono state riposte accanto al pilastro circondato dalle lapidi che ricordano i banchi di scuola. A San Giuliano di Puglia anche il capo della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Quanto oggi a distanza di 15 anni è importante investire in prevenzione? È fondamentale perché episodi come questi non abbiano a ripetersi in futuro. Noi l'abbiamo fatto come protezione civile e lo continueremo a fare. Un monito per tutte le istituzioni. Con investimento sulla prevenzione strutturale, con la messa in sicurezza delle scuole, con la messa in sicurezza degli edifici privati, con la prevenzione non strutturale, che è quella nostra, con la pianificazione dell'emergenza, con tutta una serie di interventi volti a limitare gli effetti degli eventi sismici e degli eventi dannosi. Una messa alla veglia di preghiera alla fiaccolata lungo i luoghi del dolore, tanti momenti per condividere un ricordo e rinnovare un messaggio di speranza e di unità. E oggi, nel giorno della memoria, per ricordare la tragedia di San Giuliano di Puglia, il terremoto del 2002 che Telemolise raccontò in diretta, in una non-stop, che durò oltre 40 ore, andrà in onda. Dallo speciale realizzato nel decimo anniversario dal direttore Emanuela Petescia e da Angelo Pompei, lo speciale andrà in onda oggi, alle 15 circa, e domani alle 11. La politica adesso è improvviso dietro front di Antonio Di Pietro, che rimescola le carte, riabbraccia frattura e ribalta gli equilibri, nel centro-sinistra sempre più diviso. Alla base ci sarebbe un accordo elettorale tra Cristiano Di Pietro e l'assessore regionale Facciolla. Imbarazzante la posizione dell'ex PM sulla sentenza di Bari. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Antonio Di Pietro, nei giorni scorsi, un incontro con Bersani e Danilo Aleva a Roma, accordo quasi fatto, possiamo dire? Non c'è nessun problema, non esiste un quasi nel vocabolo di Di Pietro. Io ho cominciato a fare politica nell'Ulivo, di cui sono stato un cofondatore, resto nell'Ulivo e quindi non posso che restare con Bersani, a cui io ho detto e lui ha ribadito che entrambi lavoriamo per ricostruire un Ulivo unitario ed io ho già detto a lui che certamente voterò MDP, ma non mi limiterò a votare MDP, ne porterò anche la bandiera. Così parlò Antonio Di Pietro. Era il 25 settembre e tolse ogni dubbio sulla sua collocazione politica e sulla conseguente adesione all'MDP e all'Ulivo 2.0 nel Molise. A distanza di poche settimane l'ex ministro ha ribaltato la sua posizione e ha di fatto riconfermato il sostegno a Paolo Frattura pur criticandone l'operato. In realtà però in questi ultimi cinque anni Antonio Di Pietro non ha mai proferito parola sulle scelte del Governo regionale in materia di sanità, di lavoro, di infrastrutture, sui pesanti complitti di interesse che lo hanno caratterizzato, né tantomeno sulle eclatanti vicende giudiziarie che hanno coinvolto direttamente il Governatore. Il presunto giravolta si è palesato durante il faccia a faccia con Roberto Ruta organizzato dall'MDP quando il senatore gli ha offerto pubblicamente la candidatura al vertice della Regione per poter unire, ha detto il centrosinistra, ma Di Pietro ha subito rifiutato l'offerta e con motivazioni poco convigenti ha detto non sarò mai candidato per dividere ulteriormente il centrosinistra né al Parlamento né alla Regione, anche perché, ha spiegato l'ECSPM, quando è uscito il mio nome non ho visto un consenso diffuso. Il centrosinistra diviso perderà le elezioni politiche e quelle regionali, ha aggiunto, ed io non ho intenzione di andare alla ricerca di un posticino da estrema unzione. A chi gli ha fatto notare che l'unica opposizione alla sua candidatura era arrivata da Paolo Frattura, Di Pietro ha sorriso ed è rimasto in silenzio. Secondo molti osservatori si è trattato di un vero e proprio dietrofront, quello di Antonio Di Pietro, forse collegabile al figlio Cristiano, che secondo i ben informati nei giorni scorsi avrebbe concluso un accordo elettorale con Vittorino Facciolla. Davvero imbarazzante, infine, la risposta di Antonio Di Pietro alla domanda sulle diverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto il governatore, dalla sentenza di Bari alla Biocom, dalla Villa al Mare, ai tanti conflitti di interessi. Frattura venne da me prima di presentare la denuncia a Bari, ha detto Di Pietro, ed io lo sconsigliai dicendogli, pensaci bene, oggi si trova indagato per calunnia, ma un avviso di garanzia non è una condanna e anche a voi dico pensateci bene perché Frattura verrà assolto a concluso Di Pietro. Roberto Ruta invece ha bacchettato Paolo Frattura su quella denuncia, dunque la distanza tra Ulivo 2.0 e Antonio Di Pietro è diventata davvero incolmabile e tutto lascia prevedere che l'ECSPM ritornerà nelle braccia di Frattura. Il faccia a faccia tra Di Pietro e Ruta è servito però a fare chiarezza sulle reali intenzioni dell'ECSPM, fino ad oggi eccessivamente ondivache, mascherate dalla ricerca affannosa di una unità del centro-sinistra che al momento appare impossibile. Parliamo adesso di sicurezza nelle nostre città e del progetto avviato dalla Regione che prevede l'installazione di 500 telecamere in 11 comuni. L'intervento è stato illustrato a Palazzo Vitale. Sentiamo Giovanni Di Tota. Una sorta di grande fratello per tenere sotto controllo i punti sensibili della Regione, in particolare le 11 città con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. È il progetto denominato Patto per la Sicurezza, presentato a Palazzo Vitale, che prevede un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio. Due milioni di euro destinati alla rete che contempla i comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Venafro, Boiano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Agnone, Montenero di Bisaccia e Riccia. Le telecamere saranno posizionate dalla Siemens, la ditta a cui la Regione ha affidato l'appalto, sulle strade cittadine e extraurbane, nei porti e nei tratti di ferrovia, per monitorare grandi impianti pubblici, le aree industriali e le sedi istituzionali. È evidente che l'interesse dei cittadini è rivolto soprattutto alla sicurezza delle aree urbane, delle strade in prossimità delle scuole, dei parchi, dei luoghi di aggregazione dei ragazzi. Furti e spaccio sono i fenomeni in grande espansione, soprattutto nelle città maggiori. La piccola criminalità locale negli ultimi anni ha assunto dimensioni, se non preoccupanti, come nelle regioni confinanti, almeno considerevoli. Dunque a Campobasso l'investimento maggiore con l'installazione di 140 delle 503 telecamere previste. Tutto sarà controllato da una piattaforma alla quale le 11 centrali operative invieranno le informazioni. La gestione prevede, oltre alla videosorveglianza, anche la lettura delle targhe automobilistiche, servizi anti-intrusione, il controllo degli accessi sensibili e il servizio antincendio. Sono previste anche due applicazioni per gli smartphone, con le quali verrà attivato un filo diretto tra i cittadini e le amministrazioni. L'app Shared Security consentirà di raccogliere segnalazioni da parte degli utenti che verranno localizzate da un georadar e gestite da un pannello di controllo attraverso il quale il comune interessato potrà fornire risposte pubbliche. Mentre l'app Enjoy the City darà notizie di interesse turistico, si potrà visualizzare la mappa cittadina e fornirà informazioni sugli orari di apertura di negozi e locali, orarie e fermate del trasporto pubblico. Un iconeo ai tempi, che non sono di sicuro rapportati alle dimensioni del progetto diviso in lotti operativi, i primi comuni ad avere le telecamere saranno Riccia, Guglionesi e Campomarino. I consiglieri comunali di Gambatesa nel cuore hanno chiesto la convocazione straordinaria e urgente di un consiglio comunale per discutere dello stato della sicurezza della scuola materna elementare e media di Tufara e l'immediata revoca della delibera dell'aggiunta che autorizzava e obbligava gli studenti delle medie di Gambatesa da frequentare l'istituto di Tufara. Presa di posizione dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Bregantini sullo Ius Soli è un diritto non un favore, ha dichiarato l'alto prelato, che invita a superare l'ostilità e la paura nei confronti dei figli degli immigrati nati in Italia che, ha detto, hanno diritto alla cittadinanza. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. L'arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini prende posizione sullo Ius Soli, che è un tema di strettissima attualità. Sarebbe ora è un diritto non un favore, ha dichiarato riferendosi all'accelerazione imposta dal governo per il varo del provvedimento. L'intenzione è quella di approvarlo entro la fine della legislatura. È doveroso che venga fatto immediatamente, ha aggiunto Bregantini. Se ne parlava già sette anni fa, durante le settimane sociali a Reggio Calabria. La paura eventuale deve sparire. Ha proseguito l'alto prelato. Se un cittadino è riconosciuto, è comunque collaborativo, partecipativo e in grado di dare il meglio di sé. Dobbiamo quindi aprire le situazioni alla realtà già istituzionali. I figli dei migrati nati in Italia hanno il diritto alla cittadinanza. Non è un favore che viene loro concesso. Ha puntualizzato Bregantini che si è soffermato anche sul viaggio del Papa in Cina. Il suo viaggio sarebbe la conferma di un mondo che cambia, ha spiegato. È un modo per far sì che la Cina torni ad essere protagonista e non solo più realtà di commercio che ci fa concorrenza, ha aggiunto, ma protagonista di cultura, di religiosità e di dimensione spirituale. E' questo il grande sogno che l'Occidente deve avere, realizzare i ponti creati da Marco Polo, ha concluso Bregantini. La SEA ha consegnato il piano neve di Campobasso aggiornato. La società gestisce il servizio secondo le linee guida dettate dall'Aggiunta Comunale. Nel documento vengono evidenziate la disponibilità di mezzi propri, uomini e ditte contrattualizzate da dislocare sul territorio della città, ma anche le aree operative di ogni mezzo. La SEA assicurerà l'organizzazione di una sala operativa funzionante 24 ore su 24 per monitorare, rilevare e tracciare costantemente con geolocalizzatori la presenza di ogni singolo mezzo e per facilitare il coordinamento. C'è anche una collaborazione con Meteo in Molise per avere un quadro puntuale e preciso delle precipitazioni, anche differenziando il quantitativo di neve nelle diverse zone di Campobasso. Nell'ottica di questa collaborazione, la SEA fornisce in gestione a Meteo in Molise il nivometro. Anche Fornelli ha aderito alla manifestazione Puliamo il Mondo, promossa da Lega Ambiente. Bambini, genitori, insegnanti, volontari della sezione Alpini e amministratori comunali hanno raccolto i rifiuti abbandonati lungo la stradina che costeggia il torrente Vandra. Oltre a svolgere attività di educazione ambientale, con Stefano Beltrami di Lega Ambiente e con Anna Lancellotta si è parlato dei pericoli derivanti dall'inquinamento delle acque. L'iniziativa è stata molto apprezzata dai genitori che hanno suggerito ai promotori della manifestazione di organizzarne altre sia nei boschi intorno al paese sia all'isola ecologica. Il bando della regione che prevede aiuti per gli inquilini morosi dello IACP è assurdo e va assolutamente rivisto. Lo chiede il consigliere comunale di Isernia Filomena Calenda. A suo avviso non si può chiedere il versamento di un acconto del 15% a chi non ha nemmeno i soldi per pagare il fitto mensile. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Il bando per l'accesso al fondo per ridurre l'amorosità in favore delle persone che risiedono negli alloggi popolari dello IACP di Campopasso Esernia avrebbe dovuto dare una boccata d'ossigeno a quegli inquilini che non riescono a pagare il canone di locazione perché rimasti senza lavoro. E invece, leggendo con attenzione il documento, sono saltate fuori delle condizioni che hanno avuto il classico effetto della doccia gelata. Per accedere ai benefici previsti, infatti, oltre alla rinuncia agli eventuali ricorsi presentati per evitare gli sfratti, è richiesto il versamento di una somma a titolo di acconto pari almeno al 15% del debito accumulato. Un passaggio ritenuto beffardo dagli inquilini delle case popolari. Un bando che sta di presa in giro, ha detto il consigliere comunale di Sernia, Filomena Calenda, che già nei mesi scorsi aveva denunciato la situazione difficile che stanno vivendo alcune famiglie che risiedono nella palazzina sulla Statale 17, sulle cui spalle pende uno sfratto esecutivo per il mancato pagamento di un canone di oltre 320 euro al mese. Elevato rispetto alla media, è comunque impossibile da pagare quando si perde il lavoro. Per la Calenda, il bando della regione è semplicemente assurdo. Gli inquilini, ha spiegato, si sentono umiliati e offesi per queste richieste. Se le famiglie, rimaste senza lavoro e con i figli piccoli da mantenere, avessero i soldi per versare un acconto del 15%, pagherebbero direttamente il canone di locazione. In città c'è gente che vive in condizioni critiche, non può essere presa in giro da un bando privo di ogni logica. A mio avviso va assolutamente rivisto, così come chiede la sinistra italiana, che a questo punto, ha concluso il consigliere comunale Sernino, dovrebbe spiegare se sta dalla parte di Frattura o dalla parte dei cittadini. Il Comitato e il coordinamento No Tunnel hanno indetto un'assemblea cittadina a termo il 3 novembre alle 18.30 nei locali della Chiesa del Sacro Cuore. Un incontro hanno spiegato per ascoltare i cittadini sul progetto di riqualificazione urbana e creazione del tunnel e per organizzare una mobilitazione. Tre punti chiave su cui confrontarsi. La risposta inviata dal Comitato alle richieste della Commissione referendaria, l'esposto depositato in Comune e inviato anche a Procura e ANAC sull'illegittimità della nomina del responsabile unico di procedimento per il tunnel e infine la conferenza dei servizi fissata per il 7 novembre. Grande partecipazione e interesse a Bagnoli del Trigno per la quinta edizione della Trignolata, la giornata dedicata all'approfondimento di una delle piante del nostro territorio che sta rivelando notevoli potenzialità che vengono confermate anche dalla ricerca scientifica. Pubblicato su una rivista internazionale, lo studio riveste una particolare importanza. Intanto si ampliano gli orizzonti sulla biodiversità molisana. Sentiamo Giuseppe Carriera. Consapevolezza è il concetto con cui si potrebbe riassumere il senso di una giornata che è anche l'espressione di una filosofia di vita. La quinta edizione della Trignolata, Bagnoli del Trigno, è stata tutto questo. Una prima parte della giornata dedicata agli sviluppi della ricerca, avviata già da alcuni anni e condotta con rigore presso l'Istituto Superiore di Sanità Italiano, dal team della dottoressa Stefania Meschini, utile, oltre che ricca di interesse, la prima parte del suo intervento nella tavola rotonda, in cui ha fornito le basi sintetiche per comprendere fasi e metodiche di una ricerca scientifica. La stessa ricerca, che è applicata in vitro nel strato di prunus spinosa di qualità Trigno, addizionato di un complesso attivatore nutraceutico, ha dato risultati sorprendenti, ora a disposizione della comunità scientifica di tutto il mondo, dopo la pubblicazione su una rivista scientifica internazionale Open Access, che compare anche su PubMed, dello studio a firma di un team di cui fanno parte anche i molisani Franco Mastrodonato, presidente della Società Italiana di Medicina Biointegrata, Giovanni Occioniero, chimico, farmaceutico e docente IMEB, e Sebastiano Delfine, docente dell'Università del Morise. Il prunus ormai è diventato un po' così, il simbolo di queste iniziative, non solo il simbolo, poi chiaramente c'è un dato di fatto, ecco la ricerca che va avanti sul prunus spinosa, ricerca importante, svolta su più fronti oltretutto, quindi non è solo l'Istituto Superiore di Sanità, ma è la Federico II di Napoli, è l'Università di Perugia, e poi l'Università del Morise dal punto di vista agronomico, eccetera, quindi una ricerca a largo raggio, che man mano, ecco sono cinque trignolate, ogni volta parliamo di prunus, e ogni anno cose nuove, cose importanti, dei passi in avanti. Il prunus ormai è diventato il simbolo anche della biodiversità del Morise, e allora anche noi cominciamo ad allargare gli orizzonti. E mentre si studiano anche altre piante, tra cui il corniolo, il prunus è stato oggetto di uno studio dell'Università di Perugia sul contenuto di antiossidanti, ed anche qui risultati davvero importanti. Immaginavamo che il prunus avesse delle proprietà antiossidanti, ora l'abbiamo verificato con degli studi in collaborazione con l'Università di Perugia. Abbiamo fatto degli altri lavori, in particolare abbiamo verificato la capacità dei fenoli, che già sapevamo, che sono all'interno della pianta, di combattere i radicali liberi. La stagione estiva siccitosa e clima caldo autunnale non hanno favorito la crescita dei trigni, così come vengono chiamati comunemente. Ma i circa 100 partecipanti alla raccolta collettiva non hanno smorzato l'entusiasmo, coinvolti in una sorta di competizione fra gruppi. Fondamentalmente è stato un momento di contatto diretto con la natura, per comprendere dove nascono, crescono, vengono raccolti questi preziosi alleati del benessere. A seguire è un pranzo caratterizzato alle erbe officinali e in particolare al trignolino, la versione gastronomica dell'estratto della pianta. Noi siamo quello che mangiamo, recita un antico detto, e le note leggermente aspre e il colore deciso del trignolino hanno reso particolari maccheroni fatti a mano, caciocavallo autoctono e carni, valorizzando anche a tavola una risorsa naturale tradizionalmente conosciuta in queste splendide zone, forse meno esotica di altre, ma altrettanto importante. Una soddisfazione e una gioia, grandissime quelle vissute da Giada Vitale, che si è diplomata alla Conservatorio Operosi di Campobasso nel primo livello di Pianoforte. Una passione immensa per il piano che la ragazza, oggi 22enne, ha coltivato sin da bambina ed è riuscita a portare avanti, nonostante le difficoltà vissute, un riscatto per Giada, che negli ultimi anni, contemporaneamente al processo per abusi sessuali a carico di Don Marino, è riuscita a proseguire gli studi di Pianoforte fino a raggiungere il brillante risultato, un ringraziamento speciale Giada, lo ha voluto dedicare anche alla sua insegnante del Conservatorio, Brunella De Socio. La morte nei costumi e nelle credenze popolari del Molise è il tema di un incontro organizzato a Isernia dal Musec, il Museo dei Costumi d'Epoca. Sentiamo ancora Sergio Di Vincenzo. Un'altra occasione per apprezzare la bellezza dei costumi tipici e dei gioielli della nostra regione, un altro appuntamento per saperne di più sulla nostra storia, sulle nostre tradizioni e sulle nostre superstizioni. In vista della ricorrenza dei defunti, al Musec di Isernia si è infatti discusso della morte nei costumi e nelle credenze popolari del Molise. Antonio Scasserra, direttore del Museo, ha parlato della donna nella condizione di lutto e dei simboli e dei segni che la distinguevano all'interno della società. La donna quando rimaneva vedova immediatamente tingeva il proprio costume, un costume che ovviamente era di carattere quotidiano e la donna aveva una vita marginale sia all'interno della casa che all'interno della società. Pensate che in alcuni paesi addirittura la donna vedova usciva soltanto la domenica per andare in chiesa o alle processioni e quando andava in chiesa la domenica non andava nemmeno alla messa ufficiale, la cosiddetta messa cantata di solito di mezzogiorno, ma alla prima messa che in alcune località prende il nome proprio di messa delle vedove. Durante l'incontro, grazie al contributo del delegato di segna dell'Accademia Italiana della Cucina, Giovanna Mai, è stata riproposta la tavola dei morti che veniva allestita la sera del primo novembre. La tavola dei morti è quello che abitualmente si preparava, ora non più, non accade più, il giorno dei santi, perché la notte dei morti potessero poi venire gli stessi morti liberi dal loro vincolo di morte definitiva a trovare i vivi come spirito all'interno delle case, non solo nelle case, ma riuscivano a considerarli partecipi nella propria abitazione di quello che era il vitto. Franco Miranda, studioso delle tradizioni molisane, ha parlato della paura della morte nella civiltà contadina, evidenziando una serie di credenze popolari, alcune delle quali davvero toccanti. Frosolone da alcuni altri paesi, sempre con questo credo che nell'aldilà si fosse la necessità di alimentarsi, le mamme dei bambini che morivano prematuri, diciamo appena nati, si recavano sulle tombe di questi bambini ed andavano a far cadere, attraverso i seni, delle gocce di latte sulle tombe di questi bambini. È molto triste, ma allo stesso tempo molto particolarmente elegante nel rapporto mamma-figlio. Anche in Italia ormai da tempo hanno preso piede i festeggiamenti per Halloween, una ricorrenza tipicamente americana, protagoniste sono le zucche e i costumi da zombie, scheletri o comunque di tematica horror diverse. Anche in Molise le iniziative oggi legate a questa ricorrenza e che coinvolgono soprattutto i più piccoli con feste a tema. La caratteristica americana di Halloween per gruppi di ragazzini è quella di girare per le case mascherati, bussando alle porte e pronunciando la frase dolcetto scherzetto per ricevere ovviamente caramelle, cioccolatini e appunto dolcetti vari. Sul palcoscenico del Teatro Savoia, la compagnia Campobasso Paese Mio con la commedia in dialetto campobassano di Giovanni Trivisonno, sentiamo Daniela Ziccardi. Giovanni Trivisonno, buona la prima, stengo qua, stengo là, al Teatro Savoia, ancora una volta l'entusiasmo e la passione anche della tua compagnia. Io non diventerò mai vecchio, io quando avrò 103 anni, perché io arriverò a 103 anni, mi vedrete sul palco per rappresentare le commedie dialettali, per rappresentare la mia città, per rappresentare Campobasso, per rappresentare le famiglie, i campobassani in genere, perché io amo Campobasso e amo i campobassani e anche e soprattutto le campobassane. Per rappresentare la vita quotidiana anche con ironia, facendoci anche una risata su. Soprattutto con ironia, diamo la possibilità alla gente che si possa divertire, però in fondo in fondo il fine ultimo deve essere quello, un insegnamento, un insegnamento ad amare, rispettare il prossimo, a gioire, a gioire, sì, a gioire. C'è tanto lavoro però alle spalle, tanti mesi anche di scrittura e di prove poi per poter portare sul palcoscenico, in questo caso del Teatro Savoia, un'opera. Sì, è vero, io comunque quando scrivo non mi stanco perché colgo i momenti essenziali e mi escono delle cose che non le posso preventivare. Comunque mi escono, mi escono bene perché io vivo quelle circostanze, io vivo quell'interesse della famiglia, di tutti i cittadini. Io so in questo momento che cosa stanno dicendo il Campobassano è seduto a tavola con un bicchiere di vino avanti. Ti posso dire tutto, il movimento, tutto, perché io li ho vissuti e continuo a vivere se Dio vuole. E con queste commedie, insomma, che realizza, cerca anche di mantenere ben saldo il rapporto con la molisanità, con il dialetto, perché poi alla fine questo è il fil rouge, mantenere le tradizioni. Soprattutto per mantenere vivo il nostro dialetto e esaminerò la possibilità, se sono d'accordo i miei collaboratori, di rappresentare queste commedie anche alle scuole, perché voglio, desidero, che noi abbiamo una certa età, sto io, mia sorella, Danare, teniamo una certa età, abbiamo bisogno di giovani, giovani che possano apprendere e appassionarsi a quest'arte, perché questo è arte, ma è anche vita. E tutto termina qui il nostro Tg delle 14, dopo la sigla, le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport. Buon pomeriggio. shining up. Grazie a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Buon pomeriggio. Grazie.